Il Partito Democratico ha un'infrastruttura democratica a servizio dei candidati alla carica di sindaco alle elezioni amministrative del 12 giugno. Non c'è alcuna intenzione di politicizzare il voto delle comunali, tantomeno di mettere il cappello su proposte venute dai territori e che ai territori debbono rispondere. Noi siamo umilmente a disposizione per garantire supporto del partito nella filiera che dai territori porta fino al Parlamento europeo. Lo ha detto il segretario dei DEM Michele Fina, presentando stamane all'Aquila le candidate e i candidati alla carica di sindaco nei comuni abruzzesi con più di 15.000 abitanti. Con lui il segretario della provincia dell'Aquila Francesco Piacente e la presidente, nonché segretaria del PD dell'Aquila, Emanuela Di Giovambattista. Alla conferenza stampa hanno preso parte la candidata sindaca al comune dell'Aquila Stefania Pezzopane e Chiara Trulli, candidata a spoltore. In collegamento video sono invece intervenuti Fabio Travaglini, che correrà per la carica di sindaco a San Salvo, e Simona Lattanzi, che invece si misurerà a Martinsicuro. Candidature, ha detto Fina, alternative a Marsilio e al sistema di potere di Fratelli d'Italia. Ma intanto non pensavamo di dover rispondere a questa frase. Lei pensa di essere più fregno perché è nato in Abruzzo e io a Roma. Parole di Marsilio, attuale presidente della regione Abruzzo. Ora io non so che cosa noi abbiamo fatto di male per meritarci tutto questo, però so che cosa possiamo fare per superare tutto questo che veramente ha superato i limiti della decenza. Intanto a queste elezioni amministrative eleggiamo sindache e sindaci che non sono legati a Marsilio, a questa guida regionale, che rappresentano l'alternativa, perché c'è bisogno di alternativa. La nostra offerta è molto chiara. Cinque comuni sopra 15.000 abitanti si vota in Abruzzo, che quindi hanno una loro legge elettorale. Poi ci sono molti comuni sotto 15.000 abitanti, alcuni molto importanti. Noi siamo presenti dovunque. In tre di questi cinque comuni grandi si presentano candidature a sindaca donna, quindi un segnale per la prima volta c'è un ribaltamento dei rapporti. Naturalmente in ogni comune c'è un'articolazione, alleanze molto diverse e noi rispettiamo l'autonomia dei comuni. Che fa il PD? Il PD è a disposizione di queste candidature, non per mettere una bandierina, per mettere il cappello sopra le proposte che guardano i territori, che parlano dei problemi dei comuni, ma è a disposizione perché c'è bisogno che ogni comune abbia il rapporto con il governo nazionale, il Parlamento nazionale europeo, con la rete delle altre realtà comunali nazionali, per portare avanti i progetti per rispondere all'uscita della pandemia e anche alle crisi che oggi ci sono e che entrano dentro le case delle persone, rispondere col sostegno di tutto quello che serve. Ecco, siamo un'infrastruttura democratica e quindi in un'elezione amministrativa siamo a disposizione per quello che possiamo fare. Grazie a tutti.